Carissimi amici e amiche, bentornati, nuova puntata dedicata al ciclo di Catechesi sui nuovissimi. Siamo nella settimana santa e ci prepariamo quindi con questa conversazione, speriamo a goderci un po' di più la Pasqua perché dovendo terminare oggi andremo a sentire quello che San Tommaso con le categorie certamente proprie del suo tempo ma anche con la sapienza straordinaria che ha caratterizzato il suo genio ci racconta su questo bellissimo e consolante dogma di fede e poi andremo a fare una rassegna, una piccola rassegna conclusiva del percorso che abbiamo fatto insieme. Io chiedo scusa ma purtroppo come potete sentire sia in diretta che in differita, a forza di parlare in continuazione la voce non sta proprio al 100%, speriamo che in corso di via migliori e non peggiori, comunque andiamo avanti e comunque... riprendiamo da dove ci siamo fermati la volta scorsa, appunto abbiamo cominciato ad affrontare il tema della risurrezione della carne, fermandoci al Catechismo della Chiesa Cattolica. Riprendiamo, come annunciato la volta scorsa, dalle considerazioni che San Tommaso d'Aquino, molto molto belle, fa su questo tema. Le considerazioni di San Tommaso si trovano nel supplemento alla Somma Teologie, nelle lunghe questioni dalla 75 alla 86 e si chiama questa parte della Somma Teologia supplemento perché purtroppo la Somma Teologie non è stata completata da San Tommaso d'Aquino perché poco prima di terminarla molti sanno che ha avuto la sua grande, come dire, estasi e rivelazione per cui voleva dare fuoco a tutto. Grazie a Dio gli è stato impedito di dare fuoco a tutto, però non l'ha completata e quindi la parte finale, appunto questa che riguarda i nuovissimi, il cosiddetto supplemento sono parti di scritti antecedenti, commentare sentenze di Pietro Lombardo e anche altri scritti di San Tommaso, che sono stati appiccicati alla fine della Somma per completare l'opera, altrimenti sarebbe rimasta spuria di questi importanti aspetti. Detto questo cominciamo a vedere cosa dice la Quinate sul nostro tema. Anzitutto che la risurrezione dei morti è una verità di fede, non impugnabile. Quindi è certo, è un articolo di fede, ripeto, non impugnabile, che tutti risorgeranno anche se non tutti risorgeranno allo stesso modo. Secondo San Tommaso, sapete che a quei tempi si facevano tante domande che a noi possono sembrare anche un po' eccessive. San Tommaso dice che la risurrezione avverrà per virtù di Dio Onnipotente in virtù della risurrezione di Cristo, che è la causa prima della risurrezione dell'uomo. Come dice San Paolo, che noi risorgeremo, lo sappiamo e lo crediamo con certezza, dal fatto che Cristo è risorto ed ha vinto la morte. Ed è la primizia dei risorti, come abbiamo avuto modo di scorrere nell'Antico Testamento. Come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo, dice Gesù. Paghiamo il tributo con la morte perché siamo figli di Adamo, riceveremo la risurrezione della carne con il corpo glorioso, perché siamo figli del nuovo Adamo, in lui rigenerati, nella misura ovviamente in cui abbiamo vissuto una vita di amicizia, di grazia e di santità. Ora, un altro punto fondamentalissimo per San Tommaso è che le anime riprenderanno il loro proprio corpo. Questo l'abbiamo visto tante volte, ribadito in tutti i concili, insegnamenti autentici del Magistero. Il corpo che noi abbiamo è il nostro corpo. E quindi l'affermazione perentoria di questo punto è che c'è l'esclusione assoluta di ogni minima possibilità di reincarnazione. Se mi posso permettere, anche se questa è una catechesi dogmatica, quindi faccio un inciso extra, per chi per esempio ha seguito, conosce, il ciclo di catechesi sul libro di Teneramata e quello che ivisi viene rivelato, quello che rivela Teneramata, come dire, è un rafforzamento proprio assolutamente imprescindibile dell'esclusione assoluta e tassativa di ogni possibilità di reincarnazione. Perché se uno capisce bene quello che c'è scritto, la reincarnazione è proprio impossibile dal momento che la nostra anima perde il contatto solo col cadavere, ma non con il suo corpo integrale. E quindi è impossibile che vada a prendere un altro corpo. Comunque, torniamo ai dogmi e non alle ipotesi teologiche, anche se anche qui San Tommaso, per esempio, nel questio seguente, si chiede a che età avranno i corpi gloriosi. Ora, è chiaro che la concezione che si aveva nel Medioevo era che il corpo sarà delle medesime fattezze di quello avuto in vita, il corpo glorioso, ma giovane, la piena età di Cristo intorno ai 30 anni senza alcun difetto perfettamente integro. Ora, questo certamente può essere un punto di partenza, ma sappiamo bene che i corpi glorificati, e questo lo sappiamo anche a prescindere da tenere amata, basta semplicemente, lo dico questa cosa qui perché c'è un sacco di persone, si fanno tante domande, entrano in crisi, perché? Dice, Leonardo, Leonardo, senti, ma la Madonna, come dire, a Meggiugorie, adesso non ricordo tutti quanti, dicono che ha capelli neri e gli occhi azzurri, però in un'altra apparizione dicono che ha capelli biondi e gli occhi azzurri, poi l'hanno vista come una bambina di 14 anni, però altrove l'hanno vista come una ragazza di 20, no, però Bruno Cornacchiola, la Vergine della Rivelazione, l'ha vista come una donna, sì, abbastanza giovane, ma non proprio così piccola, e poi aveva gli occhi verdi, non azzurri, dice, no, 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 però è a Guadalupe, a Guadalupe è apparsa con le fattezze di una donna del luogo, allora come era Madonna? Su questo torniamo a tenere amata, cioè un corpo glorificato ha la possibilità di manovrare e di controllare la materia con il potere che Dio stesso gli dà, simile a quello che c'ha Dio, quindi può anche trasformarsi, trasformare, rimodellarsi come dove e quando vuole, quindi non fanno testo queste cose, no? Ecco, perché il corpo è il nostro, ma si trova nella condizione glorificata, quindi la nostra volontà e la nostra anima ha la possibilità di, come dire, rielaborare, ricollegare, riprogrammare gli atomi senza nessun tipo di problema. L'altra cosa che Sant'Ommaso afferma saranno corpi immortali, e questo è evidente, quindi non più soggetti alla morte, e incorruttibili, non più soggetti alla corruzione. Voi sapete, sono due cose distinte, l'immortalità e l'incorruttibilità. Eh, perché? Perché il nostro Signore è morto veramente, non è morto per scherzo. Il nostro Signore è morto. Sant'Ommaso stesso spiega che durante la morte di nostro Signore l'anima si è separata dal cadavere, dal corpo. L'unione ipostatica è rimasta sia con l'anima che con il corpo, ma il corpo di Gesù era un corpo esanime, era un cadavere. Ma ha sperimentato la corruzione Gesù? No. La morte sì, ma la corruzione post mortem no. I morti che sono risorti in concomitanza con la morte di Gesù, l'abbiamo ascoltato domenica scorsa nel Vangelo di San Matteo. Ho già detto anche durante la breve omiliazione fatta nella Messa Prefestiva, che quello è un passo misterioso. Non sappiamo chi fossero, non sappiamo cosa è successo, possiamo fare soltanto congetture, fino a quando Santa Madre Chiesa, non credo in questi tempi così travagliati che ci sono altri problemi un po' più impellenti a cui pensare, non dirà una parola. quindi possiamo avere una certa libertà. Ma sicuramente tutti quei morti che erano risorti erano morti e erano corrotti. Nel senso che sicuramente la loro materia aveva cominciato quel processo di corruzione che porta alla putrefazione. Per questa è la grande mortificazione della morte. Non è solo la morte, ma è la putrefazione del nostro cadavere, amici cari. Non è una cosa molto allegra. Putrefazione prima, mineralizzazione poi. C'è solo un'eccezione. Non ancora definita, perché Pio XII non l'ho voluta definita, anche questa è una materia libera, ma per quanto mi riguarda, solo una creatura umana non è passata per niente per la morte. Quindi non soltanto il mio corpo non poteva marcire e non marci, ma il mio corpo non poteva morire e non morì. come ha detto la Madonna in occasione dell'apparizione a Bruno Pornacchiola che abbiamo già citato. Non soltanto non poteva marcire e non marci, quindi la corruzione, ma non poteva morire e non morì. Perché il corpo di Maria Santissima non conobbe peccato. Quindi tu dici, ma anche Gesù non conobbe peccato. Certo che anche Gesù non conobbe peccato, ma Gesù doveva morire perché era il Redentore. E anche la Madonna è morta. Non fisicamente però. La Madonna ha vissuto la morte mistica ai piedi del Calvario. Così ci prepariamo anche a questi giorni, no? La morte mistica, che a detta degli autori devoti, e non solo, è molto peggiore della morte fisica. ma la sua carne non soltanto non ha conosciuto corruzione, ma l'anima di Maria non si è mai perfettamente distaccata dal suo corpo, nemmeno dal cadavere. Perché il cadavere di Maria non c'è mai stato. E capite che, in questo senso, la Madonna ci avrebbe un privilegio, e io ne sono convintissimo, dato gli da Dio, che nemmeno Gesù c'ha. Sapete che, del resto, però, la Madonna non ha un privilegio che ho io e che lei non ce l'ha. Perché la Madonna la messa non l'ha detta mai. E non la dirà mai. Non dirà mai la messa la Madonna. E non potrà mai dire a nessuno io ti assolvo, potrà dire, poteva dire, quando era qui, vai da Gesù, che io prego per la tua assoluzione, ma non poteva dire io ti assolvo. Ma non aveva l'autorità per farlo. E che ne dica qualcuno, che ultimamente sento qualche cosa di un po' preoccupante in giro, non è capitato di sentire qualcosa, da quello che sappiamo dalle fonti, certamente dipendenti da rivelazioni private, la Madonna, il corpo eucaristico di Gesù non l'ha mai toccato. Come appare anche da tanta bellissima e devota non solo iconografia, ma proprio pittura. Io nella mia parrocchia di Borgo San Michele lo raccontavo tante volte. Avevo acquistato un quadro settecentesco dove c'era una bellissima rappresentazione di San Giovanni che comunica la Madonna. La Madonna è devotamente inginocchiata con le mani incrociate sul petto perché ad essere proprio come dire perfettissimi se vogliamo proprio recuperare tutte le tradizioni la comunica si prende in ginocchio e con le mani messe a forma di croce davanti al petto proprio per essere proprio ecco quindi questo per dire ma come c'è un privilegio no no quindi perché nostro signore è veramente il numero uno spiega sempre San Tommaso perché distribuisce doni e grazie in maniera variegata e differenziata e differenziata ecco sapete le famose tre cose bianche di cui ordinariamente ogni devoto dovrebbe essere devoto no queste sono tutte e tre adesso veramente a diverso titolo sofferenti ecco l'Eucaristia la Madonna e il Papa e il Papato andiamo avanti con San Tommaso il corpo glorificato dei beati a un certo punto San Tommaso che l'avevo predetto fa una bellissima esegesi di 1 Corinzi 15 44 45 che è il testo che secondo la tradizione ha sempre caratterizzato la descrizione diciamo così della condizione dei corpi glorificati con le loro quattro caratteristiche cioè l'impassibilità del vele numero tecnicamente come si chiamano poi le spieghiamo ovviamente la sottigliezza l'agilità e la chiarezza o splendore allora come ricorderemo in 1 Corinzi 15 44 San Paolo scriveva si semina corruttibile risorge incorruttibile si semina un corpo animale risorge un corpo spirituale si semina debole risorge pieno di forza si semina ignobile e risorge glorioso queste sono le caratteristiche dei corpi glorificati andiamo a vedere nel dettaglio la prima caratteristica è l'impassibilità che è una conseguenza diretta dell'incorruttibilità l'essere incorruttibile non è soltanto il suo giacere a la possibilità proprio della corruzione nel senso di disfacimento del corpo no e noi sappiamo benissimo noi qui stiamo in continua corruzione il processo inesorabile della nostra corporità va verso l'invecchiamento e poi verso la morte e poi verso la corruzione questo non c'è il corpo glorificato è incorruttibile ma conseguenza di questa incorruttibilità che è una cosa è l'impassibilità in che senso nel senso che le passioni prima fra tutti la concupiscenza saranno pienamente soggette all'anima tutte le undici passioni amore odio piacere dolore concupiscenza desiderio meglio concupiscenza c'è un significato negativo ripugnanza ira attenzione e quindi tutte quante le passioni funzioneranno compreso l'odio compresa l'ira cioè quelle passioni che in questo mondo dobbiamo fare attenzione dobbiamo fare attenzione o San Tommaso giustamente ma anche lui riflettendo bene sul discorso di Gesù sulla risurrezione con i Sadducei nega che nei corpi glorificati ci sarà più la concupiscenza la concupiscenza non c'è più quindi la concupiscenza ossia il desiderio sessuale non c'è più fine è una cosa che caratterizza la condizione decaduta di questo mondo ricordo quindi questo è un'altra è un altro ribadire che ciò che è tanto idolatrato oggi assolutizzato e a volte c'è anche qualche tentativo a mio avviso alquanto maldestro anche da parte di certi ambienti chiamiamoli teologico ecclesiali di o rivalutare un po' troppo o addirittura di esaltare la sfera della della sessualità ponendosi sotto questo punto di vista in una dimensione come dire estranea quella che è stata la tradizione del pensiero della chiesa e non si può certamente dire siccome c'è stata la rivalutazione della sessualità nel campo laico con la rivelazione con la rivoluzione del 68 adesso la rivalutiamo anche noi questo discorso per quanto mi riguarda quindi attenzione nell'impassibilità c'è anche il non essere più soggetti a mali e dolori di nessun tipo non solo il corpo glorificato non è soggetto al bisogno di cibo cioè l'impassibilità vuol dire che non può subire una cosa che gli crei dolore e sofferenza contro la sua volontà cioè voi mi dite mangiare è una cosa bella eh sì ma mangiare è una cosa bella ma mangiare è pure una cosa necessaria chi farà qualche prova di coraggio in questa settimana santa che farà qualche bel digiuno di quelli ruspanti e prova a vedere è un sacrificio che si offre cioè mangiare è bello ma mangiare è bello ma mangiare è anche una necessità cioè noi non possiamo stare senza mangiare qui dormire è bello a chi piace dormire ma dormire è una necessità non possiamo stare senza dormire quando nostro signore ha fatto qualche grazia grande a qualche santo tipo il santo curato d'Arso un padre Pio loro dormivano tre ore a notte ma meno di tre ore a notte cioè a meno che non veramente faccia proprio un miracolo a nostro signore non si può perché impazzisci non possiamo noi in questa condizione stare del tutto senza dormire quindi questa è una sofferenza no? se una persona mi dà un pugno in faccia me lo tengo soffrirò se una persona mi dà una coltellata me la tengo soffrirò la sete tutte cose scritte nel libro dell'Apocalisse no? non ricorperà più nel sole nell'arzura nella famiglia le lacrime le lacrime che si piangono per un dolore subito non ci saranno più riposeremo tanto cioè ma non nel senso che i corpi purificati non hanno bisogno di sonno stanno in stato di riposo anche se come dire secondo il nostro modo di parlare stanno in fibrillazione continua mangiano si mangeremo come mangiavo Gesù risorto ma non per necessità ma per puro piacere che lì potrà essere tranquillamente goduto senza pericolo di cadere nel vizio capitale della gola e quindi nell'intemperanza anche qui se posso riaprire una parentesi tenetamata da molti dettagli su cibi e bevande celesti quindi questo per quanto riguarda l'impassibilità bello no? vale la pena soffrire un po' in questo mondo per raggiungere questo stato no? o San Tommaso aggiunge e i sensi ah i sensi ci saranno tutti quanti perché noi abbiamo un corpo vero e saranno sensi perfettissimi e la sensibilità anche dei corpi glorificati sarà perfettissima è tutto perfettissimo niente a che vedere con la situazione veramente di interdizione di miseria transeunte che noi abbiamo in questo mondo no? fino a quando stiamo appunto in questo stato di natura decaduta vediamo la seconda caratteristica la sottigliezza cioè la prima era si semina corruttibile risorge incorruttibile quindi l'incorruttibilità specificata nell'impassibilità no? quindi non perché le passioni sono il principio della corruzione anche in noi no? ah ovviamente non si è soggetti alle attività umilianti no? tipo doversi lavare perché non c'è possibilità alcuno adesso questo lo vedremo anche nello splendore di gloria del corpo purificato né tantomeno alle necessità fisiologiche non ci sono più i procedimenti di assimilazione e di escrezione quindi di espulsione delle scorie non esistono più la sottigliezza che cos'è? secondo aspetto si semina un corpo animale risorge spirituale che significa corpo animale e corpo spirituale ora per capire bene questa distinzione spiego subito che bisogna anzitutto collocarsi nell'antropologia biblica paolina che risente della visione orientale ho detto altre volte nella lettere filippese a un certo punto San Tommaso dice fratelli tendete alla perfezione tutto quello che è vostro spirito, anima e corpo si conserva irreprensibile ora il corpo animale non è semplicemente essere un animale ma è il corpo in cui il principio dominante che è quello che abbiamo qui giù non è lo spirito ma è l'anima però attenzione l'anima non da intendere come la intendiamo in occidente come la parte più nobile dell'uomo che è quella creata direttamente da Dio quella gemma preziosa che ci abbiamo e che è racchiusa nell'oriente questo si chiama spirito quindi l'anima in oriente è la sede dei sensi e delle passioni quindi perché il nostro corpo qui è un corpo animale è perché è un corpo soggetto quindi alle passioni noi non abbiamo un dominio dello spirito sull'anima e il nostro corpo purtroppo si lascia trascinare da tante passioni no? tutto questo non c'è è la spiritualità del corpo glorificato cioè la sua piena soggezione noi diciamo in occidente all'anima in oriente dicono allo spirito ora da questa tra virgolette spiritualità del corpo San Tommaso fa discendere secondo le cognizioni che aveva al tempo la possibilità di di passare le mure però lui specifica secondo le cognizioni che aveva allora che siccome la sottigliezza non toglie i corpi gloriosi l'estensione ciò comunque dipende dal fatto che sarà una potenza da attribuire alla virtù di Dio è evidente amici cari no? qui per esempio non voglio dire sempre le stesse cose però la conoscenza che abbiamo noi oggi è per esempio degli atomi e della loro composizione e della loro possibilità attraverso le cognizioni sull'organismo integrale di scomposizione una volta che si acquisisce lo stato di gloria rende molto molto più semplice comprendere questo no? quindi come è possibile penetrare i corpi senza trovare resistenza se li si vuole attraversare e senza trovare dolore se li si vuole compenetrare ora per la verità San Tommaso nega che dalla sottigliezza dipenda la possibilità di passare come dire di entrare di attraversare un corpo grave senza trovare ostacolo però il catechismo di San Pio X invece lo afferma proprio cioè dice che conseguenza della sottigliezza è proprio questo quindi è la capacità di penetrare i corpi gravi senza trovare ostacolo quindi per quanto riguarda l'agilità anche qui l'agilità significa che il corpo glorificato avrà la capacità di muoversi in brevissimo tempo quasi istantaneo quindi passare in un momento senza fatica è da un luogo all'altro anche qui adesso vedete no come il passaggio del tempo io sarei molto curioso di mettere il libro di Tenera Amati in mano a San Tommaso non soltanto il libro di Tenera Amata ma tutte quante le cognizioni tecnico scientifiche fisiche chimiche che una rivelazione del genere suppone mettere nelle mani di un genio così è chi lo sa che cosa ti avrebbe tirato fuori in queste segesi no noi sappiamo che i corpi i corpi glorificati quando entrano in un'altra dimensione fanno i viaggi intestellari in maniera istantanea muovendosi anche a frequenze differenziate per quanto riguarda il tempo quindi tutte quante cose che nel 1200 quando è vissuto San Tommaso ma nemmeno non passavano neanche lontanamente lontanamente no però i geni pur attraverso le cognizioni del tempo hanno comunque sulla base sulla scorta anche di dati rivelati sono riusciti comunque a sistematizzare bene quindi muoversi in brevissimo tempo di San Tommaso in una maniera quasi istantanea passando in un istante senza fatica da un luogo all'altro no e questa è la conseguenza del si semina debole risorge piena di corpo con le categorie aristoteliche San Tommaso spiega che come era con la sottigliezza il corpo si rende soggetto all'anima in quanto è la forma del corpo così con l'agilità il corpo si sottomette all'anima in quanto ne è il motore e quindi è pronto e spedito nell'ubbidire allo spirito in tutti i moti e le azioni dell'anima senza sentire meno senza sentire un minimo di stanchezza San Tommaso con le condizioni che aveva all'epoca nega che ai corpi glorificati sia possibile essere contemporaneamente in luoghi diversi ma questo sappiamo essere con le condizioni anche sovranaturali che ci abbiamo adesso tranquillamente possibile anche qui se andiamo a percorrere alcuni passaggi del testo di Tenera Amata lo possiamo tranquillamente vedere infine c'è la chiarezza dello splendore si semina ignobile e risorge glorioso lo splendore di gloria lo splendore di gloria dei corpi glorificati è simile a quello di Gesù risorto o trasfigurato spiega San Tommaso uno splendore che avverrà per ridondanza dell'anima sul corpo cioè la gloria dell'anima risplende ridonda sulla bellezza del corpo sarà visto anche da occhi non glorificati però anche lo splendore sarà sotto l'arbitro della volontà dei beati in merito alla possibilità di essere nascosto questo è evidentissimo perché se questo non fosse anche adesso dove pensate se appare la madonna ad una persona nessuno potrebbe sostenere la gioia e lo splendore del corpo meraviglioso e glorificato della nostra regina la madonna può apparire di fatto appare tantissime volte in tantissimi luoghi perché può tranquillamente attenuare o anche del tutto annullare l'infinita fulgore di gloria splendore di gloria che risplende nel suo corpo santissimo sant'ommaso d'aquino però giustissimamente perché dice oh che bello ma ci stanno anche i corpi risorti dei dannati siete mai chiesto questo amici cari perché non risorgono soltanto i corpi dei beati ma risorgono anche i corpi dei dannati e per loro il fatto di risorgere non è che sarà proprio una bellissima notizia allora che cosa ci avranno quali caratteristiche ci avranno i corpi glorificati di tutte quelle che abbiamo viste solo due primo saranno immortali nel senso non potranno mai morire ma questo capite bene per una persona che sta sotto tortura perpetua non è certamente una cosa positiva ma è una cosa estremamente negativa perché capite che significa significa che a differenza della vita terrena ecco pensiamoci magari in questi giorni settimana santa cioè Gesù ha passato altro che le pene dell'inferno di più per noi immaginati un po' se ti mettessero in croce pensiamoci intensamente sapete che significa avere un chiodo che ti che ti trapassa non tanto la mano il palmo della mano ma la parte alta della mano all'aggiuntura col polso un chiodo di diametro come dire di un paio di centimetri nella parte più due per due nella parte più abbondanti pure e ti spacca in due il nervo mediano andate a vedere su internet andate a fare una ricerca vedete che cos'è il nervo mediano oppure un chiodo lungo il doppio che ti trapassa tra il terzo e il quarto metatarso tutti e due i piedi vogliamo parlare della flagellazione triplice della coronazione di spine quindi voi immaginate se un dolore di questo genere che è insopportabile ma guardate veramente che qui ci sta veramente da 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 tremare fosse eterno Gesù ha sofferto tantissimo no ma è arrivata la morte cioè quando uno vede la passione di Mel Gibson durante la settimana santa io non posso fare a meno di cioè l'impressione che quasi tutti provano cioè quando Gesù muore si tira un sospiro di sollievo e dice ma meno male basta perché morire è molto meno peggio che soffrire in quel modo inumano no non soffre più questa cosa non c'è oh attenzione e quindi non solo questa cosa non c'è ma ce ne sono altre altro che non subire le passioni altro che non subire ogni sofferenza di corpo naturale altro che leggerezza altro che liberazione dalle miserie fisiologiche del nostro corpo potranno soffrire ogni tipo di sofferenza che soffre un corpo naturale identiche se ti danno una cortellata la senti il freddo lo senti il caldo lo senti adesso che arriva l'estate e questo mi si permette ogni tanto è bene ridirle certe cose specialmente chi va in giro nudo o nuda peggio perché fa caldo c'era qualche santo che diceva sì sì all'inferno di più però e se vai in giro così a voglia di che fa caldo te ne vai dritto dritto all'inferno scegli che tipo di caldo vuoi sopportare siamo in settimana santa amici miei cari la vita cristiana è vita perdonatemi anche di penitenza ma no ma noi abbiamo la divina volontà no no la divina volontà è vita di penitenza come la vita senza la divina volontà tra virgolette ecco secondo le rivelazioni fatte la serva di dio Luisa Piccarreta è vita penitente i sacerdoti un tempo e oggi pochi la talare la portavano d'inverno e d'estate un po' più leggera te mori di caldo sì te mori di caldo ve lo dico io te mori di caldo e che facciamo te lo tieni lo offri perché quanto più soffriamo e offriamo qui tanto più alti andremo in gloria se noi non vogliamo soffrire qui cioè un ministro di dio per esempio che si toglie la veste talare d'estate perché c'ha caldo e deve mettersi maniche corte mica fa una cosa gradita al signore questo dobbiamo ricordarle ogni tanto queste cose qui no diciamo al contesto della settimana santa spero che che sia adatto ho durato una diretta o meglio commenti ad una diretta di qualche giorno fa non ho già parlato ma ha ripetito a Juvent anche perché questa poi va registrata si parlava della modestia femminile dice no però io no io non metto i pantaloni perché io con la gonna sto scomoda e dice come faccio sapete come come si risponde a questa obiezione figlia mia comodità non va d'accordo con santità avete mai sentito parlare di di santi che vivevano una vita comoda già oggi abbiamo comunque tante comodità che i santi si risognavano ma a qualcuno dovremmo pure rinunciarne o no a qualcuna lo dico come Gesù che il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo non ci aveva manco un tetto o un letto durante tre anni di vita pubblica questo l'ha fatto il nostro maestro non siamo tenuti a tanto eroismo ma a qualcosina però sì o no una delle cose molto brutte di questi nostri tempi è la perdita pressoché totale dello spirito di penitenza cristiana non soltanto della penitenza sacramento che è già importantissima ma anche della penitenza virtù cioè di fatti dannati sono torturati per tutta l'eternità e attenzione in maniera proporzionale a quanta penitenza non hanno voluto fare qui in terra a quanti piacere illeciti si sono goduti qui in terra queste cose la chiesa le ha sempre credute le ha sempre insegnate i santi le hanno sempre predicate sempre quando noi sentiamo cioè io vi dico perdonate cioè noi non possiamo se non temerariamente di staccarci da ciò che è stato detto e fatto sempre perché chi ci crediamo di essere noi per poterci buttare alle spalle quello che è stato detto e fatto sempre siamo forse più grandi di fior di santi dottori credo di nono o poi c'è un'altra cosa i corpi beati sono bellissimi per lo splendore di gloria e i corpi detannati brutti deformi a causa delle brutture dei peccati commessi in vita orribili chi non ci crede riguardi la prima apparizione di Fatima il famoso primo segreto la visione dell'inferno quello che raccontavano i pastorelli le anime entravano dentro ste fiamme di fuoco con fattezza umane e ne uscivano come mostri o i demoni erano ancora più mostruosi perché mostri come i demoni non ci diventa nessuno ma le anime erano comunque mostruose Tolkien grande Tolkien ha ha espresso questa cosa con gli orchi no che erano elfi decaduti elfi erano immortali no quindi gli orchi erano gli angeli decaduti sono vetture mostruose sono corrotte eh quindi la corruzione c'è e come ma dentro l'immortalità e attenzione questa cosa spiega San Tommaso è funzionale alla giustizia perché dal momento che essi hanno usato del corpo peccando peccando e gravemente o meglio hanno idolatrato il corpo è giusto che siano eternamente puniti anche in esso e al nostro Signore a questa regola di giustizia evidentemente si attiene Gesù la morte l'ha vinta per tutti alcuni saranno felicissimi di questa vittoria altri quelli che l'hanno combattuto e disprezzato in questo mondo un po' meno usando un eufemismo perché quella risurrezione servirà soltanto ad aumento di pene tormenti e dolori bene una breve rassegna conclusiva delle verità fondamentali come dire implicate in questo articolo che poi è un articolo del credo credo la risurrezione della carne la vita eterna amen allora tutti risorgeranno quanti fecero il bene dice Gesù per una risurrezione di vita e quanti fecero il mare per una risurrezione di condanna quando risorgeranno l'abbiamo visto alla fine della storia dopo la parusia è il penultimo atto della storia della salvezza la risurrezione della carne seguito solo dal giudizio universale che a Dio piacendo cominceremo a trattare dalla prossima settimana si risorge con lo stesso corpo che si aveva in vita l'anima è forma sostanziale di questo corpo quindi facciamoci pace amici miei con il nostro corpo perché ce ne avremo parecchio da starci insieme un corpo naturalmente perfetto anzi perfettissimo per i beati non altrettanto per i dannati perché è un corpo mostruoso un corpo glorificato per i beati non altrettanto per i dannati per i quali il corpo è solo immortale e consente di protrarre a tempo indeterminato i tormenti e le pene dell'inferno infine è da escludere ogni minima parbenza di metempsicosi si vive una sola volta e l'anima è la forma di un solo corpo chi crede nella rincarazione è fuori della comunione con la chiesa bene amici direi di fermarci qui anche se la conversazione è stata un pochino più breve del solito meglio così si farà meno fatica a seguire tutto tanto il podcast o il video è inutile adesso aprire l'argomento giudizio universale perché non riusciremo neanche a introdurlo adeguatamente sarà l'ultimo argomento di questa piccola fatica di ciclo di caratteristiche scatologiche e vi do quindi appuntamento alla prossima settimana perché ci sarà Dio vi benedica e la Madonna tutti e sempre vi protegga